Musica Salve amici appassionati Football Manager Qui con voi come sempre c'è Mike94 Ovviamente Football Manager Italia Siamo qui di nuovo con il nostro mitico Spezia E non perdiamoci in chiacchiere Oggi andremo a vedere la partita con il Lec E contro la Juventus Tutte e due in casa Bologna ve lo risparmio sinceramente E niente dobbiamo assolutamente vincere Questa partita per qualificarci Nel prossimo turno E soprattutto qualificarci come primi E ce la faremo Non ci saranno dubbi Vi faccio vedere un attimo la Formations Ruffier, Smith, Borghese, Maximo Zappagosta Badu, Vaugan, Pizarro, Robben, Depay Rescaldani Quaresma ha chiesto la cessione E io volentieri lo cederò E poi che altro c'è da dire Anzi quasi quasi lo schiaffo In seconda squadra E va a quel paese E sta arrivando un altro centrocampista Peso a parametro zero Si chiama Marcos Tebar Non è fortissimo Non è un mostro Però in caso di emergenza Ci sarà tanto utile Mi avete consigliato di Prendere il centrocampista Dalla primavera Ma vi vorrei far vedere come siamo messi in primavera Ecco Ecco la nostra primavera Siamo messi veramente uno schifo E non ho dato tanta importanza a questa Quest'anno Visto che era l'ultimo anno Quindi ho detto Abbo sti cazzi Non ci servirà nulla E quindi Per questo ho voluto prenderne un altro Centrocampista Perché Non ci potremmo fare Ecco Vabbè Andiamo E Speriamo che ci sarà utile Anche se adesso Si è ripreso Vao Campirlo E Compagnia bella Però Un parametro zero Lo paghiamo tipo 370.000 euro All'anno Non è né fortissimo Né scarsissimo E buono Sia in difesa Che tecnicamente Appunto Può essere una terza scelta Una terza scelta utile Per le partite un po' così In campionato Ecco Un po' inutili Vediamo il Lek Si schiava con Budic E altri giocatori Che sinceramente Non odo pronunciare E Noi siamo già qualificati Ecco Questo mi ero dimenticato di dirvi Però Non siamo ancora Mi pare Matematicamente Primi E quindi Almeno un punto Almeno un punto Ecco Però non In contropiede con Il Lek Semmai In standard Ecco Proprio per non partire Sparati Però siamo in casa Cerchiamo di fare Una buona figura Buric Buric La spara Almeno cerchiamo Di non perdere Ecco Klassen 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 Ancora lui Scivolata Inutile Zubia Bravo Smith Robben Primo minuto Ancora lui Robben Tiene palla La passa Guido Guido Pizzarro Per Resca Il Resca Il buon Resca Con un po' di lag Un po' all'inizio È sempre così Come FM14 Appena inizia a registrare Va un po' a scatti Alcune volte Ma buoni Sti cazzi Robben Azione un po' confusa O meglio Una non azione Ci ha mostrato il gioco Alcune volte Non ha molto senso Ma vabbè Diciamo che alcune cose È migliorato In FM15 Ma in tante altre È peggiorato parecchio Però vabbè Non fa nulla Depay La passa al mezzo Per Maximovic Sulla linea Salvano I difensori LEC Adesso il contropiede Ma ci dovrebbe essere Appunto il buon Smith Però ancora loro Possesso palla In 8 minuti Insomma Si stanno difendendo bene Ma ripeto Un punto basta e avanza Però cacchio Stiamo in casa Contro il LEC Li dovremmo sfondare Vaogan La passa a Badu Badu La palla è per Resca Il Resca Tiene palla Con lo scatto Robben Non è nemmeno Un fuorigioco 1-0 Era un po' deciso Se mettere lui O a Fellay Però Robben Veramente devastante E Volevo questi Cioè vorrei Questi tre punti Perché così Primo posto Assicurato E E certo Qualificarci col primo posto Con Real Madrid Autogol Credo che sia autogol Eh si appunto Era indeciso se fosse autogol O gol di Smith Però Qualificarci i primi Con il Real Madrid In girone Credo che sia Tanta tanta roba Depay Ancora cross al centro Pasticcia un po' E Resca Però non riesce A buttarla dentro Era una partita Forse si Un po' Che avrei potuto Anche risparmiare Però una partita Di Champions League Mi faceva piacere Farvela vedere E poi comunque E poi è importante Visto che Ci fa qualificare I primi Depay cross al centro Ancora Rigore Lo batte Resca Resca Parata Sbaglia Oggi Resca al Dani Non è forse tanto In partita Non è ancora Segnato Però vabbè Meglio che sbagli Sbagli i rigori In queste occasioni Che in altre Ecco 2-0 Ancora per noi Depay Depay La cross al centro Boz E Klassen Contro Piede Lec La recuperiamo Klassen Ancora lui Bravissimo Depay Sempre più forte Vaugan Per Robben Per Resca Dani E qua Mi fa rimangiare Quel che ho detto Ci servirebbe Vabbè Una coppia attacco Belotti De Scaldani Sarebbe Assurda Veramente Resca Resca E Resca Ottimo Acquisto Preso a 2 spicci E E ancora Mi congratulo Con lui Ecco Seppur ha sbagliato Il rigore Masticarsi 3-0 Per lo Spezia Zubbia Vabbè Credo che Oramai La qualificazione Sia nostra Robben Però esce Perché è stanco E Buttiamo nella mischia Bagua Diciamo che A questo punto Preferirei Far giocare Bagua In queste partite Un po' così Batu pure Se è fatto male E quasi quasi Lo leverei Inutile rischiarli Buttiamo nella mischia Anche Bovo Non voglio rischiare Nessuno Ecco Bovo pure Ritorna Dall'infortunio Però Luzki Campanile Maceborgese Un nome Impronunciabile Ancora Zubbia Malinoski Tomievski Schie Goal Del Lecce Qui Difesa un po' distratta Forse Stanno con la testa Già nella partita Col Bologna Ma Non è ancora finita Mancano ancora Un bel po' di minuti 25 Maximovic Zapp Zapp Per Depay Depay La passa a Vaugan Vaugan Depay Depay Ancora lui Per Pizarro Depay Non ci sta lo Spezia Depay Cross al centro C'è il buon Resca 4-1 E' il Lecce Lecce Sta subendo Questo Spezia Poi ci segnano No Ancora Depay Contropiede Ancora lo Spezia Ancora fame di gol Rescaldani Rescaldani Questo è solo il primo anno In Champions Guardate che cacchio Combiniamo Depay Depay Che cacchio ha fatto Depay Cross Madonna Madonna Che gol che ha fatto Ma Rescaldani Fa fallo Ma sarebbe stato Un euro goal Peccato Sarebbe stato Un golasso Di Depay Ma vabbè Importante è vincerla Questo Curiosità Real Madrid Real Madrid Che sta facendo Real Madrid 5-0 Il PSV Eindhoven Però Mi spiace Mi spiace Per il Real Ma è troppo tardi Perché noi ci abbiamo lui Il mitico Che Credo che abbia Fatto capire Che Un giocatore Assurdo Devo dire Forse Rescaldani È un po' più forte Di Belotti Vabbè Sarà che io sono Più affezionato Cioè Per il momento Ho ancora il cuore Quasi tutto Per lo Spezia Anche se Con lo Schalke Pure mi Ci sto affezionando Parecchio Belotti Mi piace assai Veramente un attaccante Formidabile Credo sia finita Qui la partita Yes Dovrebbe Fischiare L'albitro E così è 5-1 Spezia E Lecce No Lecce Come cacchio Si dice Non può dire nulla E Anche Real Madrid Seconda in classifica Siamo 13 punti a 8 Sempre 5 di distacco 21 tiri Spezia Il PSV Credo che oramai Arriverà in Europa Ah si Ovviamente Pure Real Madrid Matematicamente Qualificato 5-0 E niente ragazzi Ci vediamo direttamente La partita con la Juventus A fra pochissimo Ovviamente La partita con il Bologna È abbastanza semplice Gol di Flecce Che veramente In campionato Sta segnando A bomba E Anche col Catania Ha segnato Non ve l'ho fatta dire Abbiamo vinto anche col Catania 1-0 Sempre i gol di Flecce E qui anche Buon Depay La formazione Con la Juve Abbastanza ovvia Ruffier Smith Smith Borghese Zuma Zappacosta Batu Vaugan Pizarro Rombe Depay Rescaldani Andiamo Ovviamente non sarà una partita semplice Tutt'altro Però siamo in casa La Juve Gioca con Buffon Dante Chiellini Bonucci Contrao Vidal Dodò Pogba Pereira Llorente Vucinic Ancora Ancora vivo No sto scherzando E Speriamo di fare una bella prestazione Ovviamente oggi giocheremo in contropiede Che se no Ci inchiappettano Però Proviamo comunque a fare bene E speriamo ecco Vucinic Llorente Pereira Pereira Vaugan subito a prendere palla Vidal Vidal Ci servirebbe un centrocampista come Vidal Alla Spezia Anche Pogba non mi farebbe schifo Pogba Appunto Quentrao Quentrao Pereira 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 La passa Vucinic Vidal Vidal Per Pereira Pereira Dodò 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 Vucinic Mamma mia Devo dire che ogni volta che Scherzo su qualche giocatore Lo sfotto Puntualmente mi segna Devo dire la verità È sempre capitato così Però vabbè Per fortuna questa volta Vucinic non ci ha segnato C'è Depay Contropiedello Spezia Depay Trava la passa indietro Per Pereira Pereira Bravo Pizzarro Ancora Pereira Però Pereira Mamma mia Bravo Ruffi Meno male Ruffi è la passa Smith Smith Niente 42esimo Diciamo un pareggio sarebbe anche buono Dai ragazzi però Stiamo in casa Non so se sostituire Robin Però Devo dire la verità Può sempre essere Devastante Smith Robin Ancora nulla E appunto Ho già preso un'altra botta Robin Stanno uccidendo Coentrao Coentrao La spara Pogba Mamma mia Ruffi è oggi Ruffi è Sta ispirando a Buffon Forse No Bravo Ruffi è Complimenti Robin però Qui Sta morendo E Buttiamo nella mischia Al buona fellai Non ha giocato Nemmeno bene Robin Forse per Le troppe botte O forse che sta giocando Veramente tanto Pure Depay È stanco Stringi un po' i denti Che tu pure sei Un altro ottimo giocatore Noi non abbiamo fatto Grandi azioni O meglio Ne abbiamo proprio giocato Io direi di buttare Una mischia Fletcher E Bagua dai Proviamo Giusto Gli ultimi 8 minuti Eh sì 8-9 minuti Coentrao Non vi ho fatto vedere Poi il centrocampista C'ho meglio Mi ricordo Se vi ho fatto vedere o meno Guarda che Che finisce la partita A fellai Vao gan Ma credo che ora Fischierà l'albitro Sì sì Appunto finisce qui Partita abbastanza noiosa Però un punto comunque Diciamo d'oro Perché Però diciamo sempre Che non siamo felici Perché comunque La Juve è la Juve Anche se non sta facendo benissimo Però Siamo ugualmente A Sette punti Dal Milan E Speriamo bene Insomma Che il Milan Non faccia risultato Vi faccio vedere anche Il Centrocampista Che abbiamo preso Anche se forse Ve l'ho già fatto vedere Ma L'attivazione È la clausola Bobo Stigalchi 120.000 euro Borghese racconta La furia di Michael Mike In posizione Lo spezza Infatti Si ruffiare Veramente ha fatto Un'ottima partita Detto questo Come sempre Un saluto Da Mike 94 Spero che questo video Vi sia piaciuto E ovviamente Un saluto anche Il football manager D'Italia Ciao ragazzi Ciao ragazzi